La parola odio oggi è un eufemismo Benvenuti su Spreferiti di Gio, come state? Spero tutto bene Come dicevo nell'intro, la parola odio, come mi è stato fatto notare, in questo format ovviamente è un must perché così almeno ci rendiamo conto di cosa effettivamente andiamo ad analizzare della mia persona, mia persona ovviamente, non in maniera generalizzata viene utilizzata a sproposito perché molto spesso vado a parlare di argomenti che in realtà non bisognerebbe odiare ma sono cose che normalmente non mi piacciono quindi oggi prendetelo come spreferito, le cose spreferite, le cose che principalmente in realtà mi fanno spavento sul futuro che è il tema di questo mese prendiamola un po' come una chiacchierata, una chiacchierata internos a punti perché è un argomento sul quale ho bisogno di sfogarmi quindi è una specie di combo tra uno sfogio, il format che uso a volte nelle dirette di Instagram e uno spreferiti di Gio il futuro penso che sia una di quelle cose che spaventano un po' tutti soprattutto adesso dove il futuro è talmente incerto che ogni due settimane siamo lì a avere paura se non ogni settimana, addirittura ogni giorno siamo lì ad avere paura che le cose cambino da un momento all'altro e infatti il primo punto che voglio argomentare è il cambiamento, la paura del cambiamento so di non essere sola in questo mondo, se siete come me fatemi sapere qua sotto ma io quasi non sopporto i cambiamenti nella mia vita o meglio riesco a sopportarli ma non nel breve termine, non a breve tempo se è una cosa repentina faccio molta fatica ad assorbirla e in questo periodo mi sta mettendo molto 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 alla prova in questo senso perché se si tratta di un cambiamento lineare e costante anche magari in un lungo periodo della mia vita è una cosa che riesco a digerire, a sopportare riesco anche a cambiare rotta in un certo senso se ho il tempo per digerire la cosa il futuro mi spaventa perché nulla è costante nella nostra vita nulla è immutato nella nostra vita le cose sono comunque destinate a cambiare sotto ogni aspetto e questa è una cosa che onestamente odio, tra virgolette ovviamente principalmente mi spaventa tanto allo stesso tempo mi eccita l'idea che le cose non rimarranno immutate perché non è che sto vivendo il periodo migliore della mia vita però mi spaventa perché non so cosa aspettarmi abbiamo un secondo e un terzo punto di questa chiacchierata che rientrano un po' nella paura delle aspettative e adesso andiamo ad analizzarli in questi due frangenti noi stessi e il contesto in cui viviamo, le persone con cui ci approcciamo bene o male, chi più chi meno, hanno tutti delle aspettative nei nostri confronti aspettative su cosa diventeremo, sul tipo di persona che siamo e che diventeremo determinate decisioni che andremo a prendere e insomma di questo tipo ciò cosa genera? Genera, vabbè, sicuramente paura di non rispettare queste aspettative sia, come dicevo, che ci creiamo noi stessi sia che ci creano gli altri intorno alla nostra persona però questo genera ancora di più un senso di responsabilità che ovviamente va aumentando nel tempo non è che da piccolo hai le stesse responsabilità che hai a 30 anni sicuramente ogni aspettativa che ci creiamo e ci creano ci porta ad avere un senso di responsabilità diverso verso quell'aspettativa cioè dobbiamo essere responsabili verso le aspettative che ci creiamo e di conseguenza dobbiamo mettere in conto delle nuove responsabilità faccio un esempio molto pratico quando tu ti aspetti di andare a vivere da solo non puoi aspettarti questa cosa senza mettere in conto la responsabilità economica che questo comporta, la responsabilità di autogestione che questo comporta la responsabilità verso la propria solitudine perché comunque se si va a vivere da soli c'è anche questo da mettere in conto ed è una responsabilità verso noi stessi gestire bene la solitudine cose di questo tipo poi stavo entrando nel discorso della famiglia ma appunto io non ci sono dentro a un discorso di aspettativa familiare l'unica cosa che so è che se mi aspetto in un futuro di avere una famiglia devo mettere in conto l'ennesima responsabilità economica l'ennesima responsabilità verso altre persone devo mettere in conto che la responsabilità verso il futuro figlio il futuro partner anche verrà molto spesso prima della responsabilità verso me stessa e così via responsabilità ovunque nel futuro cosa che odio e non sopporto non sopporto l'idea di dovermi prendere delle responsabilità che sono fuori dalla mia competenza sempre per quanto riguarda le aspettative purtroppo viviamo in un contesto sociale che ci impone delle sorte di tappe l'ho voluto chiamare così perché mi immagino la vita come un sentiero con dei checkpoint ci sono dei checkpoint che nella società in cui viviamo sono legati a delle fasce d'età abbiamo i checkpoint dati dal percorso scolastico per esempio questi sono banalissimi però è vero cioè esistono comunque della fine delle elementari della fine delle medie della fine delle superiori del percorso universitario e via dicendo infatti è una cosa che agita soprattutto gli universitari che hanno tra virgolette più elasticità temporale per finire il proprio percorso di studi hanno o si prendono la libertà di avere questo rifletteteci voi perché io sono fuori dall'argomento però per terze persone mi sono approcciata a questa cosa invece le cose più difficili sono le tappe i checkpoint che riguardano la sfera relazionale emotiva sicuramente da piccolo sono checkpoint sempre accolti con gioia quindi per dire anche le prime mestruazioni le prime mestruazioni sono viste con dualità perché da un lato sei contenta perché sai che sei diventata una donna e quindi sei come le donne grandi e dall'altro invece vabbè ti aspetti anche per racconti di terze parti che soffrirai tantissimi inizierà la tua sofferenza che ti accompagnerà per se tutto va bene in una quarantina d'anni per non parlare di checkpoint tappe che appunto il contesto ci impone che possono essere il primo rapporto sessuale il primo bacio la prima relazione stabile quando andrai a vivere da solo quando sarai indipendente a livello lavorativo quando ti sposerai quando avrai dei figli la società ci impone che anche queste siano delle tappe con delle scadenze io mi sento molto in ansia pensando al futuro pensando che tra un mese compierò 28 anni sto per sfiorare i 30 anni al solo pensiero pensando che i 30 sono un grandissimo checkpoint imposto dalla società che ci impone a 30 anni di avere un'indipendenza economica di avere un'indipendenza a livello abitativo di avere un'indipendenza a livello relazionale di intraprendere una relazione che poi ci accompagnerà per il resto della vita non so se è una cosa che mi sono costruita io ma ho la sensazione che a me come persona e a tutta la mia generazione si è stata un po' imposta questa cosa perché in passato era così so che ci sono anche tante lotte in corso per evitare che questa cosa generi il caos perché questi checkpoint, queste tappe sono fatte per mantenere l'ordine in un certo senso per avere la sicurezza che a una determinata età tutte le persone tutti gli esseri umani siano tutti sullo stesso piano ma la verità è che siamo tutti diversi tutti abbiamo checkpoint diversi e in realtà l'esigenza del checkpoint è una cosa assurda non so se la vedo io come assurda perché mi trovo in una situazione nel quale non ho la certezza di riuscire a raggiungere i miei checkpoint personali però è una cosa che mi fa molta paura mi genera molta pressione molta ansia e non penso solo a me e ho bisogno di conforto in questo senso è una cosa che odio e che mi spaventa tanto appunto parlando di cose che spaventano il futuro purtroppo per fortuna è ignoto questa è una cosa veramente spaventosa il futuro è ignoto e a me non piacciono le cose che non conosco io per natura sono una persona curiosa che ha bisogno di dare un nome alle cose di catalogare le cose sono molto pianificatrice e di conseguenza quando so che ci sono delle cose che sono fuori dal mio controllo mi spaventa tantissimo mi spavento tantissimo l'ignoto, il futuro sono cose che sono incontrollabili magari tu pianifichi al dettaglio il tuo futuro affidandoti ai famosi checkpoint di cui vi parlavo poi la vita ti porta a tutt'altro io ci sono stati dei periodi della vita nel quale dicevo ok sono sicura di aver raggiunto questo checkpoint sono sicura di star raggiungendo questo checkpoint ma in realtà poi alla fine la vita mi portava a uno sbandamento totale a un naufragio totale per il quale poi dovevo ripartire da zero ristabilire dei checkpoint e via dicendo ed erano cose ignote appunto cose che io non avevo previsto e che mai avrei potuto prevedere quindi sicuramente l'ignoto fa parte di questo elenco perché è una cosa che mi spaventa ma in tutte le cose non solo nel futuro anche le cose che non conosco mi spaventano e questo penso sia parte della natura umana un'altra cosa che sempre fa parte del precedente punto è la pianificazione come vi ho detto è straripetuto è stradetto in altri video sono una persona che pianifica che ama pianificare che ama avere tutto sotto controllo tutto inquadrato in un determinato schema sono sempre stata una persona schematica di conseguenza pianificare il futuro è una cosa che mi spaventa perché è una cosa che sicuramente genererà un cambiamento e qua ritorniamo al primo punto è un circolo vizioso questo discorso me ne rendo conto però il fatto di avere la certezza di non avere la certezza di una pianificazione chiara verso il futuro mi spaventa tanto perché so che il futuro è una di quelle cose che non potrò mai controllare e non potrò mai guidare verso una determinata strada solo perché io lo voglio per alcune cose sì per alcune cose sicuramente uno può lottare 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 e arrivare al suo obiettivo prima o poi per altre no per le relazioni umane sicuramente no per la vita la vita in generale assolutamente no faccio l'esempio banalissimo ma assolutamente banalissimo e forse anche un po' inquietante magari puoi essere la persona più realizzata del mondo puoi stare per raggiungere il tuo obiettivo in qualunque frangente e ti cade un mattone in testa sono cose che purtroppo è il caso che le gestisce se si può definire così il caso come una cosa sensiente che ci guida mi fa paura vivo un momento della vita nel quale il futuro mi fa veramente tanta paura e infatti volevo dedicare questo video a questa mia paura sperando che risulti questa chiacchierata catartica in un certo senso nell'affrontare il futuro perché io voglio smetterla di avere paura del futuro avere paura di non raggiungere i miei checkpoint avere paura di non arrivare in tempo per avere paura di perdermi qualcosa per strada basta voglio dire basta questa cosa spreferiti di Joe oggi ha compiuto un grande gesto di autorealizzazione brava bravissima perché spero appunto che questa paura passi prima o poi se volete sfogarvi merito ovviamente lo spazio nei commenti è tutto vostro fatemi sapere cosa vi spaventa di più nel futuro cosa odiate di più nel futuro io sarò qua per accogliere le vostre richieste e chiacchierare insieme se vi è piaciuto questo video lasciatemi un pollicino di supporto se pensate che questo video possa interessare i vostri amici parenti e conoscenti condividetelo su tutti i vostri social e se vi piace questo canale e quello che faccio iscrivetevi e cliccate sulla campanella noi ci vediamo domani con TV Joe invece con il prossimo Spreferiti di Joe ci vediamo il 3 di giugno un bacione e ci vediamo alla prossima a Grazie per la visione